Ok, e quindi dopo la pausa riprendiamo magari facendo un paio di esercizi tenendoci sempre da parte con le due o tre approfondimenti di cui mi avete chiesto non me lo dimentico però prima di vedere casi particolari, parametri opzionali e cose varie magari mettiamo un pochino in pratica quello che abbiamo visto io vi proporrei di fare due esercizi così molto semplici partiamo dal secondo magari, che è qualcosa sulle stringhe visto che finora abbiamo lavorato sempre con funzioni numeriche proviamo a vedere una volta una funzione semplice che riceve una stringa quindi io questo testo qua l'ho preparato in un file python separato questo che definisce questo costruire una funzione che data una stringa passata in input restituisce la stessa stringa in ordine inverso quindi il gatto me lo stamperà in questo modo noi lo sappiamo già fare probabilmente quindi questo è un esercizio molto veloce ma questa volta lo vogliamo realizzare attraverso una funzione una funzione per invertire una stringa ad esempio facciamo perdere che se andiamo a cercare nelle librerie del python ci sono già queste cose, non mi interessa mi interessa ragionare proprio sulla costruzione della funzione stessa poi se qualcuno si vuole divertire ma questo non lo facciamo in una lezione può vedere come si riesce anche magari a scrivere a testa in giù la funzione come ad esempio questo sito qua che ci permette di invertire il testo ma questo ve lo lascio come divertimento per chi è interessato allora innanzitutto dobbiamo definire una funzione che faccia questo lavoro qui quindi che ne so come la chiamiamo questa funzione la chiamiamo inverti o inverti stringa sembrano solamente inverti che riceve quanti parametri di quanti parametri ha bisogno questa funzione per poter lavorare beh in questo caso me lo dice già il testo una stringa passata in input qui l'ho scritto passata in input l'ho scritto velocemente in realtà bisognerebbe dire una stringa passata come parametro della funzione stessa quindi come input noi intendiamo l'input dall'utente poi magari questa stringa la leggiamo dall'utente ma facciamo questo esempio secondo voi ha senso fare così all'interno della funzione e qui siamo nella stessa situazione in cui eravamo con la print nel primo esempio che abbiamo fatto a volte la funzione inverti infatti no voi state dicendo giustamente di no a volte la funzione inverti ha bisogno davvero di lavorare su un dato che è appena stato letto dall'utente ma molte altre volte lavorerà su string che chissà quali elaborazioni stiamo facendo arrivano magari non direttamente all'utente o non lo vogliamo chiedere in quel momento ok quindi visto che devo invertire una parola la parola viene passata come parametro e quindi la lettura del dato avverrà diciamo così il dato o il testo lo leggo nel programma principale quindi nel programma principale mettiamo un commento che in realtà serve solo a noi e poi vediamo come migliorarlo questo programma principale non semplicemente separandolo con un commento leggerà questa parola e poi chiamerà la funzione inverti per invertire questa parola stessa quindi un argomento solo che è la parola e poi lavora per restituire la parola invertita come possiamo farlo questo? beh possiamo farlo in 100 modi diversi io ad esempio posso prendere una nuova stringa inizio con la stringa vuota poi per ogni carattere della parola lo aggiungo alla stringa ma lo aggiungo al contrario quindi esempio posso for per ogni carattere in parola se io facessi attenzione se io facessi nuova uguale a nuova più ch ricostruirei esattamente la stessa stringa ok quindi parola è una stringa for ch in parola mi va a prendere i caratteri uno a uno di questa stringa se io questi caratteri uno a uno li aggiungo in fondo li accumulo ogni volta aggiungendoli in fondo a una stringa nuova che inizia vuota sto ricostruendo la stessa stringa di partenza però se io invece facessi ch più nuova ogni nuovo carattere ogni carattere della stringa lo aggiungo all'inizio di questa stringa nuova che sto costruendo e quindi ogni volta il primo carattere della stringa parola diventerà l'ultimo carattere della stringa nuova perché l'ho inserito per primo e gli altri li inserisco davanti a lui il primissimo carattere della stringa nuova che inserirò sarà l'ultimo l'ultimo cioè quello che metto davanti per ultimo sarà quello che era al fondo no? della parola inizialmente quindi queste sono solamente due righe per farci questo valore e posso restituire no? nuova qui ho sbagliato l'indentazione in qualche punto non so perché ho messo cinque spazi anziché quattro di solito si va per multipli di quattro e questo è semplicemente la stringa ritornata quindi è una funzione che riceve una stringa e restituisce una stringa quindi se vogliamo documentarla ormai sappiamo già qual è il trucco scriviamo il triplo commento dicendo questa funzione inverte oppure crea una nuova stringa pari a quella ricevuta in ordine inverso partendo in ordine inverso dall'ultimo carattere al primo e il parametro parola sarà la stringa di partenza e restituisce la stringa invertita e quindi abbiamo questa funzione inverti che noi mettiamo questo commento non cambia nulla semplicemente ci aiuterà quando poi useremo la funzione e quindi nel programma principale che cosa faccio leggo una parola creerò il testo 2 il testo nuovo testo invertito uguale inverti di testo e poi posso stampare la parola testo al contrario si legge testo invertito lo faccio funzionare poi andiamo in debug così vi convincete dell'operazione di come ho fatto a invertire la stringa ok allora proviamo a eseguirlo vediamo così viene se funziona gatto la parola gatto al contrario si legge hot tag ovviamente la parola 8 si leggerà sempre 8 questo è un esempio stupido la parola ambulanza così come la vediamo scritta sull'ambulanza si legge asnalumba perché funziona perché funziona andiamo a vedere dentro la funzione cosa succede se io vado avanti passo passo in debug inserisci una parola mettiamo la solita gatto del nostro esempio invio e qui chiamo la funzione inverti entro dentro la funzione qui sono dentro la funzione inverti vedete che si è creato l'ambito inverti che contiene una variabile parola che è la variabile parametro parola che ho definito qua la variabile parametro che contiene il valore gatto perché gatto era il valore della variabile testo che ho usato come argomento della funzione alla riga 24 quando ho chiamato la funzione stessa quindi il meccanismo di chiamata è esattamente lo stesso io ho un programma principale a un certo punto chiamo una funzione a questa funzione passo un argomento in questo caso l'argomento è di tipo stringa e valore gatto ok allora quando entro nella funzione chiamata il parametro che si chiama parola sarà inizializzato con un valore di tipo stringa e valore gatto esattamente come prima dopodiché io devo invertirlo diciamo costruirlo al contrario e quindi andrò a costruire una nuova parola vuota ciclo sulle lettere della parola ricevuta del parametro che ho ricevuto l'ingresso quindi prima volta prendo la p poi la a poi la r la prima volta prendo la p quindi entro nel ciclo e la prima lettera non p scusate non p di parola ma g di gatto la prima volta che eseguo questo ciclo il ch vale g perché g perché è la prima lettera di gatto for ch in parola la parola vale gatto la prima iterazione la variabile di controllo del ciclo la ch vale g cioè il primo carattere della stringa gatto e creo un aggiorno la stringa nuova prendendo la stringa nuova esistente che per ora è vuota e ci metto il carattere g va bene quindi alla fine della prima iterazione la stringa nuova contiene una g alla seconda iterazione il carattere ch dovrà essere aggiornato non è più g ma sarà a perché a perché è la seconda lettera della parola gatto quindi qui stiamo nel ciclo for che itera sul singolo i caratteri siamo alla seconda iterazione quindi sarà il secondo carattere a questo punto cosa costruisco prendo la stringa che avevo g la a non la metto dopo la g g e poi dopo viene a no la metto prima g e prima di g ci metto una a e quindi costruirò a g a g che cos'è è l'inverso delle prime due lettere ga a g quindi ogni volta che prendo una lettera in più faccio un'interazione in più prenderò la lettera successiva e la metto davanti così sto costruendo la stringa al contrario t poi prendo una t prendo l'altra t vedete che costruisco da gatto ricostruendolo una lettera per volta ma però questa lettera anziché metterla in fondo che mi ricostruirebbe la stessa identica stringa di prima le aggiungo all'inizio questa variabile nuova stavamo parlando di funzioni questa variabile nuova è una variabile locale esiste solamente nell'ambito della variabile della funzione inverti vedete che nel globale non esiste è una variabile di lavoro anche ch è una variabile di lavoro interna alla funzione cioè dentro le funzioni io vi posso definire tutte le variabili che voglio prendono il nome di variabili locali perché vivono solamente dentro la funzione e vivono solamente finché la funzione è viva troverete poi nelle slide come avete visto oggi preferisco fare molti esempi pratici e poi gli stessi argomenti li ritrovate sulle slide quindi potete dare una lettura vedete che vi ritrovate si parla proprio di variabili locali variabili interne alle singole funzioni in python esiste anche un modo per creare delle variabili cosiddette globali cioè che sono visibili da tutte le funzioni ma non ve lo spiego perché è meglio se non lo imparate quindi evitiamo di costruire perché creano solo i problemi quindi tutte le variabili per noi sono variabili locali a una funzione perché questa variabile in qualche modo possa essere visibile fuori da questa funzione devo restituirla come valore di ritorno meglio non restituisco la variabile perché la variabile muore quando arrivo al ritorno restituisco il valore corrente della variabile cioè hottag che viene riportato al posto di inverti testo come valore di ritorno e e quindi viene subito assegnato alla variabile testo invertito per poi essere stampata Nicolò ci dice potremmo anche datare la stringa come una lista per farla scrivere al contrario non so bene cosa intendi quando dici trattarla come una lista anche perché le liste non le abbiamo ancora viste se intendi invece con l'operatore di slicing ma potremmo ci sono altri modi di farlo e qui in questo caso ho iterato sulla parola in ordine normale e ho e ho codato i caratteri al contrario avrei anche potuto fare in alternativa for ch in scusate for i in range dalla length di stringa rendi parola meno uno meno uno meno uno nuova uguale nuova più parola di questo vi quadra e in questo caso cosa avrei fatto avrei preso tutti gli indici che vanno da parola meno uno a zero perché parola meno uno scusate lunghezza di parola meno uno perché lunghezza di parola meno uno perché lunghezza di parola meno uno è l'ultimo carattere della stringa lunghezza di parola è già troppo abbiamo già detto tante volte questo quindi l'ultimo carattere è lunghezza meno uno vado lì indietro quindi prendo l'ultimo poi il penultimo poi il terzo ultimo quindi ogni volta decremento di uno l'indice quindi l'indice partirà nel caso di gatto G A T T O 4 3 2 1 0 poi devo mettere meno uno come valore finale perché se mettessi zero come valore finale il primo carattere verrebbe ignorato perché ricordiamo che il range nel range il valore finale è sempre escluso quindi zero lo voglio compreso meno uno lo voglio escluso quindi devo mettere meno uno una sintassi abbastanza comune per dire analizzo una stringa e tra poco lo faremo come liste in ordine inverso e a questo punto invece però costruisco la stringa nuova aggiungendo appendendo in fondo quindi è esattamente la stessa logica prima analizzo la stringa in avanti e costruisco in retromarcia la stringa nuova qui invece analizzo in retromarcia la stringa di partenza e costruisco in ordine normale la stringa nuova sono altri modi possibili oppure come diceva alcuni di voi usare l'operatore di range che semplicemente dice nuova uguale parola di meno uno così ma questa sintassi qua la impareremo a proposito delle liste e si applicherà ovviamente anche alle alle stringhe che sono un tipo particolare di liste la funzione range è cosa che guardano i suoi tre argomenti tra parentesi la funzione range l'abbiamo vista quando parlavamo a proposito di cicli for crea una sequenza il cui valore iniziale è questo il primo argomento è il valore iniziale della funzione range facciamocelo dire la documentazione range ha tre parametri start stop e step start è il punto di partenza stop è il punto di arrivo della sequenza che viene creata dalla funzione range il punto di partenza è compreso e il punto di arrivo stop è escluso quindi genera una sequenza di numeri interi dalla partenza start compresa all'arrivo stop esclusa by step sommando ogni volta il valore dello step quindi se voglio fare una sequenza crescente lo step lo posso omettere posso non specificarlo perché in automatico vale uno se io voglio un passo invece diverso da uno passo due passo quattro passo dieci dovrò indicare uno step se invece voglio andare all'indietro avrò uno step negativo e con questi tre parametri riesco a costruire molte diciamo dei tipi di sequenza che mi possono servire nei vari esempi nei vari cicli in avanti o indietro e io in questo esempio volevo che i variasse tra tutti i caratteri della stringa parola quindi tutti gli indici da zero alla lunghezza meno uno della parola e quindi all'indietro ok vabbè qui ci sono i vari modi vedete che qui ragioniamo a scatola nera in un momento siamo coloro che devono ragionare sull'algoritmo da usare per invertire una stringa e quindi stiamo discutendo su tutti i modi per farlo sui cicli come inizializzo la cosa che operatore usa eccetera in un altro momento siamo semplicemente coloro che usano questa funzione per stampare un messaggio e gestiscono l'input dell'utente qui dovrete vedere se questo testo se l'utente non ha scritto nulla è una stringa vuota se sarebbe bene che mi stampasse un errore o cosa di questo genere quindi sono due cose separate quando sono fuori dalla funzione penso come usarla a cosa mi serve quando sono dentro la funzione penso all'algoritmo che devo implementare per ottenere l'obiettivo principale della funzione che è arrivare a questa return avendo il valore utile da stampare da restituire scusate ok volevo approfittare per ristrutturare un pochino questo codice nel senso che noi abbiamo detto prima questo da qui in poi dalla riga 28 in poi c'è il programma principale però non c'è nulla che lo indichi esplicitamente il fatto che questo sia il programma principale allora normalmente quello che conviene fare è strutturare quando cominciamo a usare funzioni è strutturare il nostro codice in modo che sia fatto solo ed esclusivamente da funzioni noi siamo partiti all'inizio del corso scrivendo istruzioni python e queste venivano eseguite una dopo l'altra queste venivano eseguite una dopo l'altra ci siamo accorti che invece le funzioni non vengono eseguite in ordine ma vengono eseguite in ordine di lettura vengono eseguite quando sono richiamate solamente quando serve però sono molto più pulite perché ogni funzione ha i suoi parametri ha le sue variabili e non fa casino con le altre e poi abbiamo detto abbiamo però siamo arrivati in un punto in cui abbiamo un po' un misto nel senso che abbiamo alcune istruzioni che vengono eseguite subito e altre istruzioni che vengono eseguite solamente quando la funzione verrà chiamata è un po' un mix allora una cosa pulita da fare sarebbe far sì che anche il programma principale venisse incapsulato in una funzione che magari per convenzione chiamiamo main questa funzione main normalmente non ha bisogno di ricevere nessun parametro e semplicemente contiene il programma principale la possiamo mettere per prima la possiamo mettere per ultima come vogliamo e questo risolve un po' di problemi un po' di disagio che avevate la volta scorsa nell'ora precedente ma devo mettere tutte le funzioni davanti perché poi dopo il programma principale sotto le devi poter vedere e allora vi dava fastidio avere queste funzioni tutte davanti invece se il programma principale lo metti in una funzione main questa funzione può essere messa dove vogliamo ad esempio anche per prima intanto abbiamo visto che le funzioni le posso mettere nell'ordine che voglio l'importante è che quando chiamo la funzione questa sia già stata definita e quindi posso avere il programma principale poi sotto tutte le funzioni di cui ha bisogno ma a questo punto l'ordine delle funzioni è totalmente irrilevante non è importante ok quindi come buona prassi decidiamo che il programma principale lo incapsuliamo in una funzione main una funzione che non ha bisogno di return perché non restituisce niente a nessuno e non ha bisogno di parametri perché non ha bisogno di nessun valore perché tanto non ci serve nessuno che glielo passa attenzione ci serve ancora fare un passettino perché se io eseguo questo programma questo programma non farà assolutamente nulla perché questo programma ha una def un'altra def e basta quindi devo ricordarmi questa funzione main l'ho definita ma poi qualcuno la dovrà invocare qualcuno dovrà chiamarla dovrà farla eseguire e quindi in realtà questo programma dovrà avere almeno un'altra istruzione che metto qua in fondo che chiama il main eseguo il programma che non fa altro che chiamare il main quindi tutto il programma è fatto di una serie di def funzione 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 di cui una di queste sarà la funzione che per convenzione nostra chiamiamo main per comodità e poi un'istruzione sola vera eseguibile che è l'istruzione che chiama il main in questo modo non abbiamo nessuna istruzione nessuna variabile che sia al di fuori di un contesto di una singola variabile e così il programma è decisamente più pulito funziona esattamente nel stesso modo ovviamente perché se io vado in modalità debug come è che me lo fa fare passo passo ovviamente so che cosa succede nel senso che quando arriva la definizione del main la salta quando arriva la definizione di inverti la salta e qui ci sarà il programma main che se decido di entrare dentro quindi questa è l'unica istruzione vera del programma che in realtà poi chiama main e quindi mi va a eseguire queste funzioni che ho inserito qua quindi vedete che sono in globals è un ambito vuoto ed è meglio main contiene le variabili che via via sto creando ad esempio scusate dove è andata qui ho sbagliato ho inserito ho fatto uno step in una funzione che era una funzione di liberia e quindi mi sono trovato dentro la funzione di liberia se vi capita questo come è successo a me questo codice non è nostro è scritto dentro una funzione di liberia usate questo tastino qui step out cioè vai avanti fino a quando non è finita la funzione corrente e poi che è successo è finito ah si sono qua dentro inserisci una parola e ho dentro la input praticamente quindi ho fatto casino allora ripeto da capo passo passo vai vai entra ecco per ora ho fatto entra nella input e quindi di fatto mi faceva vedere il codice di implementazione della input invece questo lo voglio saltare inserisci una parola gatto e invece voglio entrare dentro la funzione inverti entro qua quindi avrò l'ambito globale che è vuoto perché contiene solamente questa chiamata l'ambito main che contiene l'ambito della funzione main che contiene il programma principale in questo caso l'ambito della funzione inverti che contiene le variabiline su cui la funzione lavora che abbiamo visto prima quindi questo è il modo per rispondere a Massimiliano sì è il modo normale questo di separare cose perché io prima vi ho detto una cosa che non era del tutto precisa avevo detto che la funzione inverti non poteva vedere le variabili del programma principale in realtà non è del tutto vero cioè la regola vera è un po' più complicata quindi è inutile che stiamo dentro ma noi se scrivessimo il programma principale direttamente qua anziché incapsulare una funzione in realtà ci sarebbe una parziale visibilità in lettura di quelle variabili e quindi questo potrebbe creare dei conflitti di nome mettendoli in funzioni separate questo non avviene quindi questa è la buona norma diciamo così che cerchiamo di seguire ok e questo è il primo esempio che volevo farvi vedere ma anche a questo punto l'abbiamo sfruttato per vedere un po' meglio come strutturare il programma ne approfitto anche magari per rispondere all'altra domanda di curiosità che era ma se io avessi un programma che ha tante funzioni potrei separare il programma principale mettendolo in un file python da un programma che contiene solo le funzioni mettendolo in un file python separato la risposta è sì ed è facilissimo ok quindi chi citava prima il C che aveva gli header file eccetera eccetera qua è tutto più semplice immaginiamo che questo programma sia più complicato e noi lo vogliamo separare in due diversi due diversi file quindi non vogliamo avere il codice della funzione inverti in questo file per due motivi o per ordine quindi ho un file che contiene il main un altro file che contiene alcune funzioni di supporto altri file che contengono altre funzioni di supporto oppure molto più semplicemente o molto più frequentemente perché lo stesso file lo voglio riutilizzare cioè immaginiamo che questa funzione inverti ci sia costata sudore e fatica l'abbiamo usata in un programma vogliamo usarla anche in un altro programma cosa facciamo copia e incolla no non facciamo copia e incolla del codice di una funzione che abbiamo scritto in un programma incollandolo nel codice di un altro programma perché no? uno principalmente perché se poi mi accorgo che quella funzione aveva un errore aveva un malfunzionamento e l'ho copia e incollata in sei programmi diversi dovrò poi andare a correggere tutti e sei questi programmi no la scrivo una volta sola e la riuso più volte allora cosa posso fare per questo? posso creare un nuovo modulo da importare e questo modulo conterrà la funzione che mi serve cioè questa funzione inverti la metto in un modulo che chiamerò quindi un modulo è semplicemente un file python come tutti gli altri che lo chiamerò manipola string oppure nome perché magari lì dentro c'è il file per la funzione per invertirle ma anche funzioni per mettere in maiuscolo una serie di funzioni magari che mi servono per manipolare stringhe no pippo non mi vedrete mai chiamare nulla col nome pippo perché una delle cose più difficili e più importanti dell'informatica è dare il nome giusto le cose giuste ok quindi quindi diciamo manipola stringhe dai e questo file manipola stringhe conterrà le definizioni che mi servono quindi dal mio programma reverse estraggo la funzione inverti la tolgo la cancello e la inserisco invece in manipola stringhe quindi questo file manipola stringhe contiene solo una funzione quindi se provo a fare run lui non fa nulla e il comando reverse chiamerà cerca di chiamare una funzione inverti che però non c'è più questa funzione inverti come faccio a recuperare la funzione inverti è semplicemente import il modulo import import manipola stringhe e quindi la funzione inverti sarà la funzione che posso ottenere prendendo manipola stringhe punto inverti quindi è banale ho creato un nuovo file ho messo dentro il file la funzione che mi serve e tutte le funzioni di supporto che mi servono nel programma principale ho importato un modulo e il nome del modulo coincide con il nome del file il nome del modulo coincide con il nome del file ok e poi a questo punto posso usare qualunque funzione qualunque simbolo che sia definito all'interno del modulo ovviamente col nome completo manipola stringhe punto inverti oppure se voglio importare la singola funzione quello che farò sarà from manipola stringhe import inverti e quindi a questo punto posso usare inverti senza il nome del modulo ma questo ormai lo sappiamo già fare come quando dico from mat import p import p greco oppure import mat e poi userò mat punto p questo non c'è nessuna differenza tra usare i moduli definiti di sistema i moduli costruiti da me e quindi quando faccio l'esecuzione del programma chiaramente funziona esattamente nel senso moduli prima con la differenza che le funzioni e il programma principale sono stati separati in moduli diversi per rispondere a Manuele e a Filippo questo funziona in automatico se il file giustamente è stato creato all'interno del stesso progetto perché lui va a cercare un file all'interno della stessa cartella altrimenti dovrei creare una cartella con le librerie vedete qua librerie esterne dovrei aggiungere a questo ambito di librerie anche la cartella nella quale ho messo il moduli da importare quindi si può fare anche diciamo così al di fuori del progetto in librerie in un'altra cartella che contenga le librerie ma devo dire ovviamente al progetto dove andarsela a pescare però la cosa più semplice è quella farla direttamente dentro il progetto quindi se devo importare un file da un progetto python a un altro questo è un pochino più complicato perché devo dire al progetto uno di andare a pescare il file in una cartella che invece è la cartella del progetto due il modulo manipola string non contiene nessun main ovviamente contiene solamente le funzioni di supporto non contiene nessun main se no la cosa brutta sarebbe che quando faccio l'import verrebbe eseguito anche il main di quel modulo che non è quello che vogliamo perché il main voglio decidere io quindi questo se vogliamo aumenta la strutturazione l'ordine con cui costruiamo questi vari programmi separando bene i vari momenti luigi mi chiede perché non riesco a importare oltre a fare il nuovo file non bisogna fare nulla dentro il file devo metterci la definizione della funzione e poi basta non c'è nulla in più da fare quindi controllo magari aver scritto esattamente il nome del file uguale al nome del modulo senza l'estensione .ipy a un paio di altre domande più approfondite rispondo poi dopo alla fine della lezione perché non vorrei che ci portassimo troppo distanti rispetto all'argomento ok proviamo a vedere un altro esempio un esempio questo invece è di matematica si è data allora alcuni di voi dipende un po' appunto dai vari docenti di analisi alcuni di voi hanno visto il teorema di non mi ricordo come si chiama tanto io l'esame l'ho già dato che dice che se una funzione continua in un intervallo e agli estremi di questo intervallo la funzione assume segni opposti allora questa funzione avrà sicuramente uno zero al suo interno ok e quindi noi vogliamo costruire una funzione che mi trovi questo zero mi trovi il valore di x che annulla la funzione in quel caso particolare allora cosa potrei fare io potrei definire magari una funzione trova zero a cui passo diciamo il valore a e b degli intervalli gli estremi degli intervalli e poi un'altra funzione ovviamente che sia la mia funzione da da calcolare la f di x e poi avrò il mio main che farà tutto il lavoro e alla fine verrà chiamato questa è la mia struttura del programma se volete quando a me piace strutturare le cose così partire da un file vuoto e poi dopo riempire esiste un'istruzione python che si chiama pass che è un'istruzione che non fa niente inutile però se io non mettessi questa istruzione vedete che mi dà un errore sotto perché dice attenzione che non ho trovato il corpo della funzione main vedete che c'è un rosso qua dentro quindi è come mettere un'istruzione che è inutile una print di niente o cose del genere e poi dopo la cancelliamo quindi noi abbiamo possiamo chiedere all'utente partiamo dal main supponiamo che questa funzione trova zero esista l'abbiamo già scritta e diciamo che chiediamo all'utente i valori gli estremi dell'intervallo ok quindi diciamo print inserisci gli estremi dell'intervallo a b e quindi farò a uguale input float di input di a uguale e b uguale la stessa cosa in cui chiedo b e quindi zero sarà altro che la funzione trova zero di a virgola b e poi stamperò la soluzione è zero questa se vogliamo la prima versione del mio main quindi se io lo eseguo farà nulla nel senso che farà inserisci a che vale 4 inserisci b che vale 5 la soluzione non non è un valore speciale di python che dice non è stata definita nessuna variabile ovviamente perché ho chiamato la funzione trova zero e trova zero non ha nessun return quindi non ritorna nessun variabile quindi è un valore particolare a questo punto trova zero cosa deve fare ma deve applicare il metodo di b sezione io parto da a e a b e mi chiedo che so che a e b in a e b la funzione ha due segni diversi trovo il punto medio e quindi cercherò di valutare il segno della funzione nel punto medio se nel punto medio chiamiamolo m la funzione è ancora positiva o meglio ha lo stesso segno di a allora lo zero sarà tra m e b se la funzione ha lo stesso segno di b allora lo zero sarà tra m ed a e quindi restringo l'intervallo e posso iterare più volte fino a quando questo intervallo sarà abbastanza stretto da potermi dire che lo zero sarà più o meno dove c'è questo punto medio allora come implementiamo questo è la funzione che vogliamo realizzare se la funzione è f di x prendiamone una a caso diciamo ovviamente devo importare mazza magari è un semplicissimo seno di x facciamo y uguale seno di x mat punto seno di x return y quindi ci basterà cambiare questa definizione della riga 23 per far sì che il programma sia adatto a funzioni diverse trova zero allora innanzitutto questa funzione trova zero lo deve controllare se siamo in una condizione in cui il teorema si possa applicare quindi f di a ed f di b hanno segno diverso perché se hanno lo stesso segno non funziona o meglio lo zero ci potrebbe essere ma non lo troviamo con questo metodo rispondo solo tra parenti da Francesco che mi chiede perché quando faccio import diventa grigio diventa grigio finché non lo usi se io cancellassi questo mette grigio perché dice l'hai importato ma non lo stai usando quindi quando lo usi e anche con l'import dei vostri moduli il colore grigio viene usato vedete che anche qua a e b sono in colore grigio perché le ho definite ma non le sto ancora usando quindi un modo per dire guarda che defini una variabile ma c'è qualcosa di sbagliato perché se non la stai usando non ti serviva non dovevi definirla se invece ti serve hai sbagliato qualcosa allora trova zero innanzitutto andiamo a controllare se si può se non si può se f di a per f di b maggiore di zero non va bene se hanno lo stesso segno non fatemi fare maggiore uno maggiore n maggiore l'altro or migliore uno migliore l'altro facciamo la moltiplicazione allora hanno lo stesso segno non si può applicare allora noi abbiamo appena scoperto che c'era questo valore strano che si chiamava none possiamo anche usarlo return none ritorno a un valore speciale anche in questo caso un valore sentinella diciamo per indicare l'anomalia oppure potrei ritornare che non so una stringa no dipende ovvio che non posso ritornare per dire guarda che non si può applicare un valore tipo return meno uno come facevamo prima a volte ritorniamo meno uno per indicare come valore sentinella che che questo valore non è valido perché meno uno poverino è un numero reale valido quindi possiamo ritornare o una stringa che spiega il problema oppure un valore speciale ovviamente quando poi dovremmo fare attenzione qua quando analizziamo questo valore di ritorno per ora dobbiamo migliorare poi il main questo return fa sì che la funzione esca e non faccia più nulla perché se hanno lo stesso segno non posso andare avanti altrimenti else vuol dire che questo prodotto non ha non è positivo quindi può darsi che io sia fortunato che la funzione in a oppure in b valga già zero perché qui ho messo maggiore non maggiore uguale quindi nel caso di uguaglianza la soluzione ce lo è come perché se questo prodotto vale zero vuol dire che almeno uno dei due vale zero e quindi vediamo se siamo fortunati elif se f di a uguale zero allora ritorna elif f di b uguale zero allora ritorna b else adesso devo fare il lavoro quindi abbiamo tre casi particolari i due estremi la funzione calcolata nei due estremi ha segno positivo ha segno concorde errore in uno o negli altri estremi o nell'altro estremo ha segno nullo e quindi è già quella la soluzione che stavo cercando altrimenti devo cercare e quindi calcolare il punto medio a più b diviso 2 e chiedermi se la funzione calcolata nel punto medio ha lo stesso segno di a o lo stesso segno di b ok quindi se la funzione calcolata nel punto medio ha lo stesso segno di a no scusate facciamo prima il caso particolare if f di m uguale zero sono fortunato return m altrimenti quindi se per pura fortuna nel punto medio la funzione vale proprio zero bene ho calcolato il risultato altrimenti ho due casi la funzione ha lo segno di a oppure il segno di b poiché essi sono discordi e la funzione del punto medio non è nulla non ci sono altre possibilità quindi se è il segno di a f di m ha il segno di f di a else altrimenti siamo nel caso in cui f di m avrà il segno di f di b allora se f di m ha il segno di f di a vuol dire che la soluzione è nell'intervallo tra m e b e quindi posso spostare a a destra se invece f di m ha il segno di f di b quindi tra m e b non cambia segno vuol dire che cambia il segno tra a ed m e quindi posso prendere b e anticiparlo fino a m b uguale a m e questo l'ho eseguito una volta quindi se quell'intervallo era ampio 10 l'ho dimezzato l'ho fatto diventare l'intervallo ampio 5 però tutto questo lo dovrò poi ripetere perché da 5 voglio che diventi 2 e mezzo da un mezzo 1 e 25 fino a quando l'intervallo diventa più piccolo di un certo valore che ritengo accettabile ok quindi questa operazione qui è il singolo passaggio dell'algoritmo iterativo che mi permette ogni volta di dimezzare sempre di più l'ampiezza dell'intervallo quindi dovrò iterare questo finché il valore assoluto di b meno a diventa minore di una certo epsilon diciamo tutto questo dovrò ripeterlo io so che b meno a ogni volta viene dimezzato il valore di b meno a e e quindi parte da un certo valore ogni volta viene dimezzato prima o poi scenderà sotto un certo valore di epsilon che dobbiamo decidere qual è la precisione che ci in matematica vi dicono vai avanti fino all'infinito per induzione ma qua non possiamo ovviamente e ci fermiamo definiamo la costante epsilon uguale non so 0.001 ok e alla fine di questo while quando esco dal while quindi attenzione che devo uscire di due livelli di indentazione ritornerò ovviamente dal valore di m che è la migliore approssimazione della soluzione che sono riuscito a trovare ok allora vediamo se questa cosa funziona proviamo a eseguirlo allora stiamo facendo sen x ok quindi se io la prendo tra 0 e 2 mi dirà facilmente che la soluzione è 0 perché seno di 0 ha uno e due estremi estremo a è già un punto in cui la funzione vale 0 e se ne è accorto mi dice che la soluzione è 0 se invece prendo che non so tra 1 e 2 dovrebbe dirmi se non sbaglio che non ci sono soluzioni tra 1 e 2 perché lo 0 ce l'ho a pi greco che vale 3 e qualcosa e quindi in questo caso mi dice la soluzione è none vabbè poi lo dovremmo sistemare magari scrivere in italiano questa cosa qua perché none è assolutamente un problema di messaggio però è riuscito a riconoscere che la funzione nel punto A e la funzione nel punto B hanno lo stesso segno e quindi se invece ho 1 e 4 dovrebbe trovarmi il pi greco e mi dice che c'è un errore dunque local variable M reference before assignment alla riga 43 perché sono pirla io e qui non è un minore ma è un maggiore perché io devo ciclare se A-B è più grande di epsilon devo andare avanti solamente quando diventa più piccolo posso uscire dal ciclo lui cosa faceva perché avevo questo errore perché avevo un minore qui quindi trovava che B-A che valeva 3 perché io ho fatto da 1 a 4 valeva 3 è minore di epsilon che è 0,001 no che non è minore e allora non eseguiva il while e cercavo di fare il return return di un valore M che non era mai stato ancora calcolato e quindi per fortuna mi ha dato questo errore si A-B è del valore assoluto e quindi ci volevo maggiore perché questa è la condizione di ripetizione del ciclo non la condizione di uscita ho confuso l'operazione di ripetizione con la condizione di uscita quindi riproviamoci da 1 a 4 eh beh si somigliano è chiaro che noi abbiamo un epsilon che valeva un millesimo quanto l'ho messo un decimillesimo e in effetti le prime 5 cifre sono giuste Roberto mi dice non potremo iterare finché F di M è diverso da 0 proviamo while F di M diverso da 0 allora attenzione che in questo caso dovrei inizializzare M perché qui in questo caso dà un errore perché facciamo così F di A più B diviso 2 perché M non è ancora definito però posso mettere A più B mezzi ok è la stessa cosa no? semplicemente M lo calcolo la riga sotto e quindi qui non posso ancora usarlo la riga 33 ma per fare la prova va benissimo così 1 4 eh il computer sta andando se voi potete sentire la mia ventola è partita ma non 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 ritorna mai perché non ritorna mai? possiamo interromperlo proviamo a eseguire le modalità debug e quindi rifacciamo 1 4 per vedere cosa succede lui sta andando avanti no non sta andando avanti 1 B 4 guardate A uguale a 1 B uguale a 4 perché esce così no sta girando non sta cercando come fare a interromperlo senza bloccarlo ma si vede che non si riesce niente vabbè metto un breakpoint qua così è più facile allora 1 4 allora andiamo a vedere l'M io clicco qua e lui ogni volta che clicco mi fa un'interazione in più perché mi va avanti fino al prossimo breakpoint ok guardate il valore di M ad ogni interazione che si avvicina sempre di più a a a picreco no qui sotto vedete il valore di M che evolve e l'intervallo AB che si espringe sempre di più però la funzione non varrà mai esattamente a zero perché non ci sarà mai nessun valore di M che sia esattamente uguale a pi greco perché l'aritmetica del calcolatore è finita e quindi non non potremmo mai arrivare esattamente a zero potremmo arrivarci molto vicino ma il seno di questi numeri qua non sarà mai zero sarà zero molto vicino ma non esattamente zero quindi non si può non possiamo aspettare di trovare risultato esatto richiederebbe un numero infinito di iterazioni ma quello del meno richiederebbe una precisione infinita nei calcoli che non abbiamo quindi dobbiamo accontentarci comunque sempre di una soluzione approssimata quindi l'approssimazione la posso fare sulla sull'ampiezza di intervallo A meno B la posso fare sul valore della funzione ecco potrei scrivere while f maggiore di epsilon però non potrò mai chiedermi che sia esattamente uguale a zero si si può usare is close si possono usare tanti criteri diversi per dire quando A e B sono abbastanza vicini o che alla fine is close è un modo di calcolare una differenza a meno di un epsilon quindi sono allora Antonio mi chiede se ci sono più zero e me ne si trattisce uno solo sì questo algoritmo ne si trattisce uno solo il primo che trova a seconda di come è fatta la funzione il teorema dice che gli zero sono il numero dispari e questo algoritmo ne trova uno solo Caramagna Davide mi dice ma io ho provato con i numeri negati immagino che voglio dire negativi e non mi viene e questo mi curiosisce proviamo a vedere quindi tu dici se tu metti meno 4 e meno 1 a me viene meno pi greco vediamo cosa succede se inserisco l'intervallo al contrario 4 1 secondo me dovrebbe funzionare lo stesso perché avendo messo io questo valore assoluto che A sia maggiore di B o che A sia minore di B non ho mai usato in nessun punto l'ipotesi che A sia maggiore o minore di B quindi in questo caso se poi vogliamo cambiare sospettiamo che Davide sta rispondendo avremmo messo in un intervallo meno 1 e 2 meno 1 e 2 vediamo un po' meno 1 dovrei trovare meno 0 no? sì beh questo è 3 per 10 alla meno 5 è tanto 0 quanto lo permette questo epsilon che è 10 alla meno 4 con 4 e 1 restituisce 4 insomma forse forse non siamo d'accordo su che cos'è il seno ecco se trovassi un intervallo più lungo mi darebbe un solo 0 sì se mi tiene da 1 solo allora se io inserisco come intervallo 1 e 10 mi da questo però non posso controllare se è il primo se è l'ultimo 0 me ne da 1 qualunque se io inserissi 1 e 13 probabilmente non mi trovo la soluzione perché sono andato a peccare l'1 e il 13 in cui la funzione è positiva in entrambi poi fa tanti attraversamenti dell'asse x ma lo vado a pescare in due punti in cui è entrambi positivi e quindi questo algoritmo non può partire non può lavorare con 4 e 1 fa 3,99 no c'è qualcosa che non allora il fatto che vi restituisca 4 con 4 e 1 il fatto che restituisca 4 è curioso perché probabilmente c'è qualcosa di sbagliato qua perché non dovrebbe ritornare non dovrebbe mai ritornare in quei casi bisogna vedere quanto vale y vabbè questo è è un debug ovviamente da fare con 4 e 1 si dice 3 è 25 allora o questa notte è cambiato pi greco nessuno me l'ha detto o dalla mia parte continua a essere 3,1415 ok quindi proviamo poi o provate poi a verificare può anche essere qualche piccolo segno qualche maggiore o minore qualche con questo allora il l'elaboratore è deterministico quindi lo stesso programma deve dare le stesse soluzioni se da risultati diversi c'è qualcosa che non va ad esempio il valore di epsilon io ho messo 10 alla meno 4 se ad esempio Giuseppe gli da 3,1408 probabilmente ha messo 0,001 solo 10 alla meno 2 anziché 10 alla meno 4 come valore di epsilon se proviamo a spingere un po' di più la precisione magari riusciamo anche a trovare dei valori più precisi del pi greco 9,2 noi poi sappiamo che qua ci sarebbe un 6 invece è venuto fuori un 7 quindi ovviamente il valore che esce dipende dalla precisione da quanti iterazioni faccio e quando mi fermo ecco l'ultima cosa che ci rimane da fare su questo programmino è quando noi stampavamo dicevamo il none non c'è soluzione è brutto stampare così la soluzione none io so che none è un valore speciale sentinella che mi restituisce la funzione quando non può trovare lo 0 allora anziché stampare questo distinguiamo if 0 uguale none e poi vi dico che non va bene stamperò la funzione non cambia segno nell'intervallo altrimenti ovviamente cambia segno e avrò trovato la soluzione e la posso stampare nell'intervallo chiuso virgolette così ecco questo warning mi dice che con il valore speciale none non si dovrebbe usare l'operatore di uguaglianza ma c'è un operatore apposito che si chiama is infatti gli dice dovresti scrivere if condizione is none è un caso particolare perché l'uguaglianza visto che questo è un caso speciale non è mai un valore speciale non è mai uguale a niente quindi con l'uguale non funziona quindi se noi vogliamo usare questo valore strano none per dire non c'è nulla non dobbiamo mai usare uguale o diverso ma dobbiamo usare sempre is oppure not is come confronto se vogliamo comportamento un po' strano di questa variabile none di questa costante perdono variabile none che è un numero speciale che però fa comodo usare come sentinella in questi casi quindi vediamo un attimo se inserisco 1 e 2 lui mi scriverà la funzione non cambia segno nell'intervallo se inserisco 1 e 4 mi inserirà mi troverà questo valore ok quindi riusciamo anche a fargli fare qualcosa di semplice una cosa che non riusciamo a fargli fare se qualcuno di voi l'ha pensato faccia marcia indietro è di far inserire la funzione dell'utente perché l'utente al massimo può inserire una stringa invece qua mi serve proprio un'istruzione python non una stringa corrispondente quindi per modificare la funzione devo necessariamente modificare il codice per o meno con quanto conosciamo noi adesso quindi è facile da input modificare l'intervallo di analisi non è facile modificare non è possibile da input modificare la funzione e quindi bisognerà andare a modificare il codice se volete fare lavorare questo programma su codici diversi su funzioni diverse ok l'ultima ci sono domande su questo ancora se no vi rispondo all'ultima domanda che era rimasta in sospeso di chi diceva ma come faccio a gestire degli argomenti o dei parametri opzionali nella funzione io vedo Dennis che segnala un errore però bisogna vedere il codice vero perché solo così non posso capire probabilmente può mancare due punti può mancare qualcos'altro ok volevo solo dirvi negli ultimi minuti non si può scegliere una stringa in base alla unif non si può perché una volta che ho la stringa non posso fare in modo che python valuti quella stringa perché quella è e rimane una stringa la x scritta dentro una stringa non verrà mai convertita come se fosse una variabile x mat.sync dentro la stringa non verrà mai riconosciuto come funzione matematica c'è un metodo eval ma non ve lo dico perché fa solo dei danni che farebbe parte di quello quello che mi chiedevate se posso avere degli argomenti opzionali la risposta è sì si può fare perché il metodo di passaggio di parametri che abbiamo visto è il metodo base però in realtà è possibile passare i parametri in un modo diverso specificando anche il nome del parametro stesso quindi noi abbiamo chiamato la funzione che ne so trova zero semplicemente con a virgola b però io potrei chiamarla così a uguale a b uguale b passo specifico non solo il valore dell'argomento ma anche il nome del parametro adesso scritto così ci fa un po' di confusione ok però se noi avessimo chiamati non a e b ma x1 x2 avremmo potuto dire così il parametro a viene inizializzato con l'argomento x1 x1 il parametro b viene inizializzato con l'argomento x2 questo è equivalente io posso passare i parametri per posizione quindi il semplicemente lo scrivo sotto x1 x2 e quindi il primo argomento viene mappato sul primo parametro il secondo argomento viene mappato sul secondo parametro oppure per nome e allora darò il nome del parametro a cui voglio associare un certo argomento se io uso la dichiarazione per nome posso anche farlo in un ordine diverso proprio se voglio complicarmi la vita e quindi potrei passare b uguale x2 a uguale x1 a piacere quindi questo è un modo per poter indicare un modo diverso per poter indicare i parametri l'altra cosa che posso fare quando definisco i parametri è dare un valore di default che è qua quando definisco la funzione specifico un valore iniziale di default dei vari parametri cosa succede che se io poi nella chiamata della funzione passerò il parametro ovviamente viene inizializzato col valore dell'argomento se invece quando chiamo la funzione mi dimentico non specifico il parametro non specifico l'argomento allora verrà assunto verrà preso automaticamente il valore di default dello stesso argomento questo funziona di solito meglio quando ho gli argomenti diciamo così per nome perché chiaramente se ho più default non saprei immaginate di avere tre argomenti ne passo solamente due come fa lui a sapere quali sono i due che gli ho passato e quale invece voglio prendere come valori default allora normalmente quando io ho dei valori opzionali li passo sempre per nome non per posizione altrimenti molto spesso altrimenti a meno che non sia proprio solo l'ultimo come ad esempio nel range in cui l'ultimo argomento è opzionale quindi i primi due sono obbligatori e gli altri sono opzionali per definire un argomento opzionale basterà semplicemente io qua sono in su trova zero ad esempio mettere uguale 0.0 uguale 0.0 in questo caso non ha senso attenzione non ha senso perché questa funzione non deve avere dei valori di default e quindi non deve avere dei parametri opzionali però quello che potremmo fare è aggiungere a questa funzione l'epsilon questo sì quindi cosa sto facendo sto dicendo che questa funzione trova zero ha tre parametri i margini dell'intervallo gli estremi dell'intervallo e la precisione questa precisione la posso passare come parametro eps e per default lei comunque assume la costante eps non che è stata definita diciamo così sopra quindi qui io posso chiamare questa funzione come trova zero x1 x2 oppure trova zero x1 x2 e una precisione diversa eps uguale 001 ad esempio quindi il terzo parametro è opzionale come ho fatto renderlo opzionale uno gli ho segnato un valore di default per cui se per caso non me lo trovo so che valore usare all'interno della funzione quindi viene inizializzato con epsilon anziché col valore dell'argomento e due l'ho chiamato l'ho passato in modo nominale e non in modo posizionale perché così ho specificato esattamente qual è il parametro che voglio passarti che in realtà sarebbe opzionale quindi con questi due trucchetti passaggio per nome e valore di default posso avere gestire costruire le funzioni che abbiano dei parametri opzionali e quindi magari nella versione semplice li chiamo con pochi parametri nella versione complicata avranno dei parametri aggiuntivi che o aggiungo per posizione o molto più frequentemente per minore ambiguità aggiungo per nome in modo nominale ok quindi questa è la risposta all'altra domanda che era rimasta in sospeso da prima l'ho lasciata per gli ultimi cinque minuti perché è una cosa di cui normalmente non abbiamo molto bisogno ok tolgo questi no scusate li metto solamente come commenti così li abbiamo come riferimento ma la versione principale per noi continua a essere questa ok ci sono altre domande altri dubbi come sempre avremmo notato in questi due esercizi che abbiamo fatto la difficoltà non sono le funzioni la difficoltà a farla giusta è qua è il ciclo while di qua è questo ciclo for dall'altra quindi la difficoltà è e continua a essere nell'algoritmo nel capire come gestire questi maledetti dati come costruire questo maledetto algoritmo il resto le funzioni ci servono molto per poter isolare i vari singoli casi e poterli provare a parte se questa funzione funziona poi dopo non la guardo più perché per me è una scatola nera e so come usarla però per farla funzionare la prima volta devo provare a fare debugging non mi funziona la correggo eccetera eccetera la difficoltà è e continua a essere nella parte di manipolazione dei dati non nel fare i moduli le funzioni c'è il main eccetera sì quello serve per avere un codice più ordinato più pulito l'altra cosa che volevo dirvi è che se io penso ad alcuni degli esercizi che avete fatto la settimana scorsa dove c'erano programmi lunghissimi e molti programmi avete fatto copia e incolla più volte della stessa parte di codice ecco avendo le funzioni anziché fare copia e incolla definisco la funzione una volta e la chiamo più volte la chiamo in più punti del programma quando mi serve fare la stessa cosa e lì dovrò chiedermi esattamente visto che copia e incolla magari non è del codice identico quali sono i parametri che mi rendono quella funzione generalizzabile e quindi che si possa usare in più punti diversi Cristian mi chiede se la funzione di zeri come si comporta se ammette più zeri ne trova uno solo uno arbitrario non possiamo decidere quale troverà ma questo ve l'ha detto l'insegnante di analisi già che ne trova uno solo che converge a uno zero il teorema dice che ne esiste almeno uno e qua riusciamo a trovarlo direi che possiamo chiudere qua da Emanuele rispondo dopo quando chiudo la lezione se non ci sono altre domande vi rimando al chi volesse al tutorato che avverrà domani mercoledì alle 14.30 il link ci sono su Slack per accedere alle stanze e al laboratorio che svolgeremo giovedì nel solito modo io avevo scritto un messaggio chiedendo visto che diciamo così ho avuto la percezione la settimana scorsa che ci fosse poca gente in aula ma molta gente che non fosse riuscita a prenotarsi per favore chi sa o pensa già di non venire giovedì ed è prenotato si cancelli non la sera prima alle 23.59 ma si cancelli per tempo così che altri si possono prenotare in modo da poter sfruttare per queste ultime settimane in cui potremo farlo diciamo anche i laboratori in presenza se non c'è altro io quindi vi saluto a giovedì no la prossima settimana iniziamo le liste diciamo l'argomento delle funzioni le cose essenziali le abbiamo viste adesso poi le useremo normalmente per creare programmi ma le cose importanti che dobbiamo sapere le abbiamo concluse queste settimane quindi se volete darvi anche vedrete nelle slide ci sono gli stessi argomenti che abbiamo toccato con gli esempi ma trattati in modo diverso e settimana prossima invece iniziamo con le liste tenetevi pronti belli caldi e soprattutto belli ripassati sulla parte dei cicli perché le liste sono un altro gradino di complessità in più diciamo così analogo a quello che abbiamo incontrato con i cicli vi ringrazio buon appetito a tutti e arrivederci presto grazie a tutti